Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento di Good Morning Milano e nuova settimana in vostra compagnia. Grazie mille di essere collegati con noi e sono contento appunto di iniziare questa nuova settimana con un nuovo appuntamento. Allora sapete, il lunedì di solito ci sentivamo fino a questo lunedì, tutti i lunedì con Albi Ox e gli amici di Milano Integra che invece sentiremo d'ora in avanti il mercoledì. Il mercoledì sarà il giorno dedicato a Milano Integra e alla bellissima missione che portano avanti, ma il lunedì diventa sportivo. Abbiamo seguito uno dei grandi classici delle leggi, delle regole, della liturgia televisiva e parliamo di calcio. Parliamo ovviamente, iniziamo questa settimana perché parliamo del derby, ma non quello che tutti voi pensate. Perché no, non parleremo di Ibrahimovic e company, ma parleremo di nomi che molti di voi non hanno mai sentito nominare, ma che sempre di più fanno grande, grande, grande spettacolo sui campi di calcio ogni sabato e ogni domenica. Vi dico solo una cosa, ci colleghiamo in questo momento con il cofondatore di Cartellino Rosa e già qualcosa forse vi può far capire. E allora, buongiorno a Mattia Del Giudice, buongiorno e benvenuto su Milano All News. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, grazie ovviamente per darmi questo spazio qui sui vostri canali. Allora, siamo molto contenti di dare questo spazio perché è lo sport femminile, appunto se non avete capito ancora, stiamo parlando di calcio femminile. Lo sport femminile ha sempre trovato grande spazio all'interno di Milano All News. Siamo stati la televisione ufficiale per ben tre stagioni della Panamato Milano, serie A1 femminile, quindi insomma, e tanti altri sport femminili abbiamo seguito. Saluto le sirene del futuro americano, le arpie del roller derby, il lacrosse, tantissimi davvero di sport che abbiamo seguito, il softball anche che abbiamo seguito. E non potevamo esimerci, grazie anche all'incontro con i ragazzi e le ragazze di Cartellino Rosa, dal seguire il calcio femminile che sempre di più riesce ad avere spazio. Sarà stato che mi sono innamorato quel giorno a San Siro di quella bellissima partita a Milan-Juve, allora ho detto basta, dobbiamo parlarne. E quindi, largo spazio al calcio anche su Milano News, largo spazio al calcio femminile, parlando appunto di calcio. Però non vogliamo parlare di costume e società, ma anzi, iniziamo quindi, Mattia, con questa settimana un weekend importantissimo per il calcio femminile bianese. Assolutamente sì, perché questa domenica, in giornata di ieri, a venti giorni e mezzo, hanno iniziato anche i derby femminili tra Milano e Inter. Una partita davvero piacevole da seguire, molto diversa, perché sono stati cercati da una parte e dall'altra. Poi il risultato è stato molto largo, perché le nostre linee, che hanno vinto 4-1 a 1. In 55 minuti la partita è stata risolta e portata a casa dalla squadra di Maurizio Gantz. Tanto vediamo i risultati mentre parli, così vediamo tutti i risultati di tutta la giornata. Assolutamente. Una vittoria poi importantissima per le rossonere, perché così le permette di restare in corsa, comunque sia per la Champions, per il secondo posto, sia magari per un sogno scudetto, se dovessero continuare così. Situazione un po' più critica per le nere azzurre, perché sì, adesso in classifica non sono messe così male, non sono così indietro, però bisogna ricordare la vittoria a tavolino con il Napoli, che ha regalato due punti importantissimi a questa squadra. Chi sono le cannoniere del weekend? Chi è che ha fatto faville sui campi questo weekend? Guarda, la grandissima protagonista è Natasha Dovey, attrice di una doppietta di spessore, che ha portato due volte in vantaggio il Milan. Poi il capitano Valentina Giacinti ha segnato il terzo gol e poi il Dominica Cioncio si sblocca finalmente anche in questo campionato mettendo a segno il poker. Per l'Inter una Gloria Marinelli, davvero protagonista di questa squadra, probabilmente una delle giocatrici più in forma e più forti, anche se poi ha sprecato un'ottima occasione su 1-1 e soprattutto ha fallito il calcio di rigore nel secondo tempo, parato da Maria Corenciomba in grandissima giornata. Il risultato racconta di una storia dove non c'è storia, un 4-1 è un risultato più che netto. È così? È stata così la partita? Oppure a un certo punto l'Inter ha mollato o il Milan ha preso il largo? Com'è stato? Un po' una via di mezzo in realtà, perché appunto come hai già detto su 1-1 Marinelli si mangia un gol davanti al portiere. Se l'Inter magari fosse tornato in vantaggio le cose sarebbero andate diverse. Poi il Milan è oggettivamente in questo momento superiore all'Inter femminile a livello di rosa, a livello di stipoli e di ambizioni. E quindi quando è poi in attacco una giocatrice come Natasha Dawi che è così pompente e in i momenti in cui magari anche l'Inter stava attaccando perché stava facendo un ottimo lavoro e quindi faccio prenderlo e molle a Hansen. Però poi arriva già Cinti anche che ti porta a trovare via sul 3-1 e il 4-1 di Cionci a pochi minuti dall'inizio della ripresa cambia totalmente le sordi della partita con un Milan che rallenta pure un po' i ritmi viste comunque le gare molto faticose che ha avuto nelle scorse settimane con Juve ed Empoli. Cosa invece ci dobbiamo aspettare per la prossima settimana? Qual è il prossimo turno e cosa dovranno affrontare i milanesi? Guarda, adesso ci sarà intanto una pausa nazionale dove ci sarà una partita importantissima, Italia-Dalimarca, valevole per la qualificazione dei prossimi europei della prossima estate, anzi tra due stati nel 2022. Poi ci sarà un turno di Coppa Italia per le milanesi dove l'Inter entra a Brescia e vintra il Milan a Cesena. Se partite sulla carta ti vedono le due squadre in Serie A superiori alle avversarie. Anche se questo Brescia devo dire che gioca molto più e l'Inter potrebbe avere qualche portato contro le Lionessi. Lo dicevi appunto Mattia perché il Brescia invece milita in Serie B, giusto? Io ti faccio queste domande, mi scusami Mattia se ti faccio queste domande a volte un po' ma appunto stiamo incominciando a scoprire questo nuovo campionato che è alla quinta giornata, quarta giornata, cos'è? Alla sesta giornata, è stato il primo campionato in Italia a partire la Serie A ancora prima del maschile, ma proprio a luce. Comunque siamo ancora in tempo allora per capirlo e scoprirlo bene, appunto scusami se ogni tanto ti faccio queste domande magari per te che lo segui giornalmente un po' banali, ma mi metto dalla parte del pubblico che oggi si ritrova a dover scoprire un mondo nuovo e speriamo appunto sempre di più ci si appassioni e poi dopo non dobbiamo più farti queste banali domande su chi gioca in Serie A e chi gioca in Serie B. No, come ti do che è un po' di cose per scontato, se questo non c'è talmente, però fai bene farmi anche queste domande semplici che però possono seguire il pubblico per appassionarsi e capire certi aspetti. Quindi dicevi pausa nazionale, poi turno di Coppa Italia e poi si ritorna quindi fra tre settimane credo, lo giusto con il campionato. Proprio così, il weekend tra il 7 e l'8 novembre inizia, arriva la settima giornata dove l'Inter ospiterà il Big Bari, quindi sulla carta una partita un po' più semplice per l'eneratura e anche se l'anno scorso, mi ricordo, ero lì presente tra l'altro allo stadio, l'ultima partita prima del lockdown, prima della sospensione del campionato, finì 2-2 quella partita con l'Inter molto sprecore in difficoltà. Mentre il Milan andrà a Napoli, andrà a sfidare il Napoli femminile che ricordo magari appunto per chi non segue questo mondo, non è il Napoli di De Laurentiis, è una società a parte, che in questo momento si trova a zero punti in fondo alla classifica, quindi sembra scontato il risultato, ma non lo è perché in realtà il Napoli sta facendo davvero un bel gioco, mancano solo i gol e i punti. Adesso io ti fanno per le milanesi, speriamo che non arrivino proprio durante le milanesi questi gol e i punti, ovviamente posso, come direttore di Milano News, posso ti fare per entrambe le milanesi, quindi non c'è problema. Diciamo prima che appunto il nostro pubblico, speriamo, si appassioni al racconto di questo campionato e poi lo possa seguire, se noi ne parleremo solo lunedì, invece Mattia tu ne parli tutti i giorni dalle colonne di Cartellino Rosa, giusto? Proprio così, sì, siamo su Instagram, su Facebook, adesso abbiamo anche in mente qualche progetto per espanderci un po' su altre piattaforme, però principalmente siamo lì, scriviamo sul nostro blog post partita, pagelle e anche analisi tattiche, tecniche comunque delle varie squadre di Serie A, cerchiamo anche di fare un punto sulle categorie migliori, sulla Serie B, dove abbiamo già detto c'è il Brescia o magari anche la Serie C, che comunque sono quattro gironi molto avvincenti. Bene, allora Mattia, io ti ringrazio tantissimo per aver inaugurato quest'oggi questa nostra striscia sportiva, inizia il nostro campionato insieme, andremo avanti tutto il campionato a seguire le ragazze di Milano e Inter e poi comunque tutte le squadre della Serie A femminile e come dicevi tu poi ovviamente non possiamo non dare un occhio anche alle Serie Minori perché insomma ci sono anche lì squadre lombarde da tenere sott'occhio. Assolutamente, grazie ancora appunto per questo appuntamento perché è davvero bellissimo, più se ne parla meglio è perché si va un passo sempre in avanti verso il professionismo e verso un futuro radiante per questo mondo. Perfetto, allora poi vedremo anche man mano, so che poi voi fate anche delle cose molto interessanti, fate la giocatrice della settimana, avete anche delle belle collaborazioni in atto per espandere sempre di più anche il pubblico e ne parleremo allora nei prossimi nostri collegamenti. Ci vediamo quindi lunedì prossimo dove parleremo di nazionale a questo punto, giusto? A questo punto sì, perché il giorno dopo ci sarà il grande match tra Italia e Danimarca. Sai già se si potrà vedere da qualche parte la partita? Sarà su Rai Tu, se non sbagli, 7 e mezzo. Ah dai, insomma, che si comincia anche a vedere allora sulle tv è qualcosa davvero simbolico e importante, quindi vuol dire che qualcosa si sta muovendo e noi siamo lì a testimoniarlo. Grazie mille davvero Mattia, è stato un piacere, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a voi, a lunedì prossimo. Grazie mille a Mattia Del Giudice, cofondatore di Cattellino Rosa, questo sarà un appuntamento del lunedì, la prima parte di puntata sarà dedicata appunto al calcio femminile e alle due squadre, Milanese, Milan Inter, derby finito diciamo con lo stesso scenario della parte maschile, vittoria del Milan in entrambi i derby, quello femminile 4 a 1, come ci diceva Mattia, insomma un 4 a 1 pieno di spettacolo. Continuiamo a parlare però di donne, lo facciamo con tre grandissime donne che sono sempre nostre ospiti e non vogliamo perderle, anzi scriveteci perché se volete contattarle, noi siamo qua per farvele conoscere, sono le tre foche parlanti, le nostre amatissime poetesse che anche quest'oggi arrivano con la loro incursione poetica. Quest'oggi è lunedì e lunedì è il giorno di Alice Bertolasi che proprio adesso ci fa la sua esposizione, ci porta nel suo famoloso mondo pieno di parole e immagini. Come ultima cosa vorrei chiederti di rimanere, non sai mai se domani, se domani se il verde ingialliscano i rami o si arresti il respiro alla voce, sfinito l'inchiostro, potresti trovarti muto al riverbero del vuoto e non riconoscerlo più. Da qualche parte ti diranno di ricominciare, allora il guscio a mezzo dei tuoi pugni appesi alle serrature e sarai in grado di amare, disegnando paure trasformate aria scoperchiate alla terra. Buongiorno, eccoci qua di nuovo! Come va tutto bene? È stato bello? L'avete visto? Insomma, le foche è questo, vi portano davvero in un mondo completamente diverso. Lo vedete, ho solo la mascherina, lo sapete perché? Perché vuol dire che è arrivato l'ospite di oggi, è qui di fianco a me, Giovanni Battista Sanguinetti. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui. Oggi parliamo di una storia che ci porterà davvero davvero lontano. Nel frattempo io vi ringrazio, ero distratto perché in questo istante, mentre stava entrando qualcuno di voi che ci sta seguendo ha messo like alla nostra pagina, quindi mi sono distratto, il campanellino che suona ogni volta che qualcuno di me mette like, allora mi sono ditato e ho detto grazie, quindi volevo ringraziarvi in diretta, non so chi tu sia, ma grazie per averci messo un like in questo istante. Giovanni, dicevo una storia che ci porta davvero lontano, sia nel tempo che nello spazio, per dire. Perché è una storia che personalmente ti prende tantissimi anni fa e poi ti ha preso e portato a 7-8 mila chilometri da qua, più o meno. 8-8 mila chilometri. 5 mila chilometri da qua, infatti. Raccontaci bene allora di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dal punto di un viaggio che poi è diventato il viaggio della tua vita. Sì, è un viaggio che è cominciato per me nel 97 più o meno e che, arrivo subito alla conclusione così sappiamo di cosa stiamo parlando, mi ha portato in India dove adesso da un paio d'anni vivo più o meno stabilmente. Cosa è successo in mezzo fra il 97 e il 2020? Io ho sempre lavorato in banca in Italia fino al 2018 e devo dire che credo di essere anche uno dei pochi bancari che è sempre stato soddisfatto di lavorare in banca. Il lavoro in banca mi piaceva. No, infatti la scelta che tra poco racconterò non è stata dovuta a quella. Però dal 97 mi era venuta la voglia di fare qualche cosa di volontariato, di fare qualcosa per persone che avessero meno possibilità di noi, meno fortunate di noi o di me. Quindi nel 97 e nel 98 avevo cercato di fare qualche cosa qui in Italia, però per impegni lavorativi o di altro tipo, anche familiari, non avevo mai possibilità di trovare un tempo costante durante le settimane per fare qualcosa. Per cui mi è venuta la grande idea, visto che a me piace viaggiare e nel 93 ho cominciato ad andare in India più o meno regolarmente perché mi sono innamorato dell'India, ho detto ok, perché non faccio qualcosa quando vado là in vacanza, quindi alternando un periodo di vacanza e un periodo di aiuto e assistenza. Ho cominciato da prima singolarmente, quindi non legandomi a qualche associazione, perché volevo capire se ero in grado di fare qualcosa in un paese totalmente diverso dal mio. Anzi, prima fuori onda e poi dicevi, avevo un po' di non essere in grado, avevo il timone di non essere capace di poter fare queste cose, insomma avevo la voglia, lo spirito, ma poi mettersi sul campo non è la stessa cosa. Infatti quando si trovano situazioni sicuramente pesanti, sicuramente impegnative anche a livello mentale e psicologico, non sapevo se fosse stato fattibile. E forse già in questo tuo dubbio c'era la risposta, cioè sì lo puoi fare. Perché effettivamente avere questi dubbi è molto umano e molto inulianto e poi dopo succede quello che succede. Invece tu nel forse, nella tua umiltà, avevi la risposta già alla domanda. Sì, vero, tutto vero. Per cui ho cominciato facendo qualche cosa, fra l'altro anche a Calcutta con Madre Teresa che non ho conosciuto, perché era già mancata, in Bangladesh qualcosina, anche in Mongolia. Ho visto che ero in grado di reggere anche situazioni parecchio spigolose, complicate. Per cui passano gli anni e pian piano maturo la convinzione di voler fare qualcosa per conto mio, quindi senza regalare il mio tempo ad altre associazioni. Arriviamo in questa situazione al 2004, più o meno, quando già da un paio di anni sostenevo un orfanatrofio nella zona sud-est dell'India, nella costa sud-est dell'India, in Tamil Nadu. 2004 lo tsunami, quindi enormi danni anche in quella parte dell'India. succedono varie cose, fra cui il fatto che tanti soldi arrivano da tutto il mondo in India per gli aiuti, eccetera. Tante persone in India impazziscono, nel senso che non gli pare vero di ricevere così tanti soldi. E non sempre tanti soldi portano la tranquillità o la felicità, anzi. Per cui l'aiuto che stavo facendo, ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non funzionava, faccio un salto avanti, quindi ho lasciato stare quella cosa, ho rimborsato gli amici che nell'ultimo anno mi avevano dato dei soldi da dare a quello orfanatrofio, perché mi sembrava corretto non... Mi sembrava corretto essere corretto, chiedo sul gioco di parole. Nel 2006 conosco un altro italiano, Fulvio Configlietti, che aveva appena fondato, proprio due o tre mesi prima, l'associazione Malar Trust Onlus, a cui mi sono unito all'inizio del 2007, quindi tra i quattro mesi dopo la fondazione. E dal 2007 ad adesso andiamo avanti con la nostra gemella Malar Trust India, che fa materialmente le attività. e dal 2018 ho deciso... Hai lasciato la banca? Sì, sì. Senza scappare via, perché sono sempre stato della convinzione che se uno scappa via, per dei problemi, non lo seguono. Si vengono dietro come ho detto, quindi... Non è una bella cosa. E quindi nel 2018 ho detto, ok, forse è giunto il momento... Ah, 52 anni, è giunto il momento, non avendo qui anche impegni familiari, eccetera. È giunto il momento di fare quello che sento come mia vocazione. Una vocazione di effetti, che erano così, infatti, giusto. E quindi da allora vivo più o meno sette, otto mesi all'anno in India. Infatti tu sei tornato quest'agosto, giusto? Mi dicevi, quest'agosto ti hanno... Sì, sì, sì. Si è riuscito a tornare, in realtà. Insomma, sappiamo che le difficoltà erano belle cose, perché tu sei partito poco prima del lockdown. Mi sono partito il primo febbraio. E ti sei trovato tutto quello, la situazione che abbiamo vissuto tutti quanti, ma là. Sì, sì, sì. Com'è la situazione, giusto per far capire un po' anche le differenze, diciamo, che possono occorrere tra noi e un posto come l'India? La situazione... Penso che anche parlare di India, a volte si è anche poi, forse anche sbagliato. È un continente quasi, solo l'India. E' un po' di quale India? Eh, infatti, immagino. Fra l'altro, faccio un rapido accenno, magari ne parleremo dopo. Noi lavoriamo nell'India rurale. Ok. Quindi non nelle città. Ok. La situazione richiede innanzitutto di avere presente che, quando si parla di India, si parla di un miliardo e quattrocento milioni di persone. Quindi, quando io adesso vi dirò che... Ricordiamo che noi siamo sui 60 milioni in un'Italia, questo per capire... E non è anche 100. Cioè, proprio per capire le proporzioni. Quando, adesso vi dico che i contagi, fino a due settimane fa, erano i nuovi contagi, erano di 100 mila al giorno, più o meno. Ovviamente, da noi questa cifra fa rizzare i capelli. L'ha anche, ma l'ha portato a un miliardo e mezzo, un miliardo e quattro di persone. Le cifre sono... Meno pesanti. Ecco, insomma. La situazione in questo momento sta leggermente migliorando. I contagi adesso sono solo, passatemi il termine, 63-65 mila al giorno, nuovi contagi. Fortunatamente, con un dato di mortalità sui contagi, da numeri ufficiali, da statistiche ufficiali, dell'1,5%. Quindi, fortunatamente, basso, insomma. La grossa differenza rispetto a noi, oltre all'importanza delle cifre, è la mentalità. Nel senso che noi, dico noi perché anche io, invece, sono italiano, quindi mi considero qui, siamo giustissimamente preoccupati, molto preoccupati, di quello che è successo, di quello che succederà. Sì, vedremo come va a finire. In India il ragionamento è, anche per la loro mentalità, anche dovuta alla loro religione, ma non solo. In India il concetto è totalmente diverso. Ci siamo noi, noi viviamo, c'è il virus, conviviamo col virus. Quindi, ma a parte i primi due mesi di lockdown, che là è cominciato il 23, il 25 marzo, e in cui sono stati chiusi i negozi e tutto quanto, portando alla fama immediatamente tantissime persone, perché là tantissimi lavorano a giornata, alla sera se non so. Non so che esiste la famosa economia giornaliera, se non l'economia del centesimo, se lo parlare anche. Dove il centesimo è proprio quella moneta che fa la differenza tra il vivere o il morire. Sì, sì, proprio nel vero senso della parola. Dopo i primi due mesi in cui il governo, giustamente, ha imposto un lockdown italian style, più o meno, con molte differenze, ma comunque abbastanza duro, e la gente moriva di fame. Quando poi i contagi hanno cominciato veramente a impennarsi, parliamo di fine aprile, il governo ha detto da domani saremo ancora più stretti e ancora più duri, tutti quanti hanno detto no, scusa, dopo due mesi che ci puoi fare la fame, ci dici che da domani le cose si fanno ancora più difficili. E quindi tutta la gente, l'uomo comune, ha ricominciato a fare la sua problematica. Ha ignorato completamente tutto quanto. Le alternative erano lavoro, mangio e magari prendo il corona, ok, va bene, se non lavoro, non mangio, finisco la scelta subito. E quindi la scelta indiana è subito. Questo per farvi capire un po' il contesto in cui appunto opera Giovanni e Malar Trastonlos, ma appunto non solo di Covid, vi occupate, anzi non vi occupate di quello, vi occupate di tutt'altro, con dei progetti che vanno avanti da tanto tempo. Abbiamo visto sempre qualche immagine, per passare, abbiamo visto sempre in una scuola, visto che fate gli interventi così. Ecco, che tipo di interventi fate? Quali sono gli interventi che fate in India? Elimino subito il discorso Covid dicendo che in realtà dal punto di vista sanitario noi non siamo stati interessati, anche perché non siamo un'associazione medica, non abbiamo le competenze. Quello che abbiamo fatto è stato una serie di interventi di cibo, perché appunto, come dicevo prima, la gente moriva di fame, o comunque soffriva la fame. Quello che fa Malar, all'inizio, quindi parliamo di 2007 anni a seguire, eravamo focalizzati quasi esclusivamente sull'educazione, perché siamo fermamente convinti che il progresso, lo sviluppo, la consapevolezza di tutti, sia in Italia che in India, o comunque nel mondo, passa attraverso l'istruzione. Dopo scuola e quindi asili, borse di studio, aiuti individuali sempre in questo ambito. Dopo qualche anno ci siamo detti, ok, ma favorire lo studio di tanti ragazzi, e in particolare ragazze, lasciandoli in un ambiente di villaggio estremamente arretrato, non serve a nulla, servirà a salvare magari una persona, ma non a far provvedire una comunità. Calcolando in particolare che noi lavoriamo con le comunità tribali, che sono quelle più arretrate. Per cui abbiamo cominciato con una serie di aiuti ai villaggi, diciamo dal punto di vista infrastrutturale, quindi elettricità, case, eccetera, sia anche dal punto di vista di spicciola assistenza sanitaria, come dicevo prima, noi non siamo medici, dare migliore cibo, dare acqua pulita, quindi pozzi, eccetera, eccetera, sono cose che possiamo fare. E' più dignitosa la vita, diciamo sempre. E da un anno e mezzo, quindi da lì poi ci sono sviluppati tantissimi tipi di aiuto, da un anno e mezzo, diciamo, lanciati anche nel settore disabili, per il quale in India c'è sicuramente attenzione da parte del governo, ma l'attenzione poi molto spesso non si traduce in possibilità pratiche. Esatto, infatti. E quindi ecco, cerchiamo di fare veramente il più possibile, quello che ci diciamo sempre è tutto quello che si può fare lo facciamo, quello che non possiamo fare non lo facciamo. Ecco, come possiamo fare invece noi ad aiutarvi? Questo lo possiamo fare da qua? Non possiamo prendere, tra cazzo è impossibile, ma comunque non possiamo tutti quanti prendere un aereo e venire là, anche perché non ci sarebbe bisogno, ma anche perché poi non ci sarebbe bisogno, immagino che le comunità siano in grado poi di autogestirsi e di fare molto da solo e basta, posso poi dire, dare l'accensione a volte, no? Ecco, come possiamo fare ad aiutarvi a dare l'accensione? Sostanzialmente in due modi e ringrazio adesso chi vorrà seguire questi suggerimenti. Innanzitutto tenendosi in contatto con noi tramite il nostro sito malartrust.org e soprattutto tramite la pagina Facebook MalartrustOnlus in cui ci sono più o meno settimanalmente le novità di quello che facciamo, i risultati positivi o anche negativi, perché è giusto che i donatori sappiano anche le volte che non ce l'abbiamo fatta. Mi sembra un modo corretto di parlare. Giusto, magari che poi faccia capire anche proprio che si cerca di fare. Esatto, esatto, e diffondere l'interesse e la conoscenza anche fra amici, parenti e persone che appunto possano essere coinvolte. L'altro modo è tramite donazioni. Mentre non considero la cosa di mandare aiuti in India, facendo di partire da qua, perché i costi del trasporto sono veramente esagerati. a parte poi le difficoltà doganali là in India. Ma in India per fortuna tante cose di uso corrente, i quaderni, le penne, gli abiti, si trovano a costo veramente limitato. Quindi è più utile per noi ricevere un euro qui, piuttosto che una spedizione di mille euro che poi il donatore ne deve pagare duecento per spedire. Non ha senso. Non ci servono almeno al momento cose invece più sofisticate, più particolari come attrezzature mediche o simili, che avrebbe senso spedire da qua, ma al momento non abbiamo in programma appunto di fare cose mediche. Per cui ecco, le modalità possono essere interesse e sensibilizzazione e magari anche fare una chiacchierata. Come possiamo fare però a seguire quello che fate, come possiamo trovare tutte le informazioni che ci servono sia per aiutarti che per appassionarci a quello che fate e poi magari appunto parlare anche con gli amici, chiaro magari un momento quando si potrà trovare un momento insieme per parlare. I due strumenti, oltre ai miei contatti personali che volendo possono essere richiesti senza problema, i due strumenti sono appunto il sito internet che però ammetto che non è aggiornatissimo anche perché siamo in continua evoluzione e sia io che Fulvio, il fondatore, siamo abbastanza incapaci. Quindi ogni tanto... Ma 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 è tutto il sito internet? Anche quello serve un grosso aiuto. Qualche baldò giovane, studentessa dell'università che magari fa comunicazione, che potrà avere una mano... E poi comunque invece, soprattutto tramite la pagina Facebook Malar Trust On Luce, in cui prevalentemente scrivo io, troverete il nome Joe Malar, che sono io, in cui raccontiamo non solo quello che facciamo, ma anche perché lo facciamo. Quindi qual è la mentalità locale, quali sono le difficoltà che noi stessi e anche i nostri amici indiani di Malar Trust India incontrano per parlare con i tribali. Quindi quello che cerchiamo di fare è non solo di dire abbiamo dato 20 kg di riso, dico per dire, ma spiegare perché sono serviti questi 20 kg di riso, spiegare tante cose di cultura locale che credo possano essere anche interessanti. Insomma, è un bel racconto anche a quel punto di una parte di mondo lontanissima da noi, ma che in realtà a volte poi, per altri motivi, è vicinissima a noi. Penso solo ad esempio alla tecnologia che viene creata in India, è una cosa pazzesca, quindi in realtà sia lontanissima ma vicinissima a suo tempo. Le zone orari saranno un mondo a parte ancora e quindi perché non scoprire che è stato come l'India c'è anche questa parte e ci sono del milanesi, come ad esempio Giovanni, che danno il proprio supporto a queste strutture. Giovanni, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio davvero tanto per averci portato anche con le bellissime immagini che abbiamo visto mentre chiacchieravamo, sono passate tutte le belle immagini che avete fatto proprio nelle vostre varie operazioni, diciamo, nei vari luoghi in cui operate, abbiamo visto le scuole, abbiamo visto il cibo che avete portato anche adesso appunto durante la crisi Covid. Quindi complimenti davvero, complimenti alla squadra e complimenti alla squadra anche indiana a portarci quando potrai andare, perché so che stai scalpitando per tornare là, perché so che non vedi l'ora, porti i nostri saluti, i nostri ringraziamenti. Riferisco sicuramente, saranno molto grati. Davvero, grazie mille, grazie mille a Giovanni Battista Sanguinetti di Malar Trust Onnos, seguite, mettete i contatti comunque nella diretta, scriveteci, Beatrice a tutti i contatti che possono poi servire. Per mettervi in contatto con Giovanni e la Malar Trust Onnos, grazie mille davvero Giovanni, grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi torniamo come sempre, mercoledì con un'altra puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News, parlare di Milano, la città metropolitana e tutto quello che rende grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci, è presto. Grazie mille.